Cari benvenuti sul canale sono Quarzo, oggi giochiamo Jin nella bot lane perché volevo portarvi un game diverso perché di solito porto sempre giungla, sempre giungla, sempre giungla, oggi ho detto ma sai che c'è? Oggi non facciamo la giungla, non facciamo la top lane, non facciamo la made lane ma facciamo la bot lane Siccome ho già portato un game con Jin, adesso lo voglio portare sul canale ma nessuno se l'è cagato perché ho sbagliato a pubblicarlo Adesso lo voglio portare un altro, un altro e lo sto buildando in maniera molto molto particolare Voglio proprio full addima proprio che te lo fa male e ci ho messo infatti il Dark Harvest Ciao ragazzi Ci ho messo infatti il Dark Harvest e adesso sto per morire Ovviamente E invece Mamma volevo proprio dargli una botta io a Lucian Fatemelo sbuterla Attenzione, attenzione Mamma mia come è possibile? Ok Andiamo ad aiutare Xinzao E poi andiamo in lane Io di solito do i 5 polpi fino a quello forte Che è questo Boom Che critta e poi torno in lane Siccome non voglio rimanerci perché potrebbero essere qua Passo da dietro Passo da dietro, vado qua e poi utilizzo la Q per prendere tutti e tre i minion Se ce la faccio Oh oh Ah ci abbiamo un Malphite, attenzione Malphite Malphite può essere un problema Allora siccome ci abbiamo Yumi In realtà nell'early game dovrebbero stare un po' buoni Devo cercare di farmare soprattutto Anche perché non ho il sustain che ti dà la runa che di solito si sceglie Che non è assolutamente il Dark Harvest ma è il piede lesto Grazie a Yumi che mi hai fatto miss a un minion Era proprio quello che mi serviva Boom Attenzione Yumi devi Mi serve lo scudo Ok Io voglio farmare ma non ci sto riuscendo Perché non so come si gioca con Yumi Brava Yumi, bravetta Allora fatemi via il cannone Ve prego Ragazzi concentrazione massima perché io non sono un Eddie Curry come ben sapete E anzi non so se lo sapete ma io odio giocare Eddie Curry di solito Oh Cioè non è che odio Sono talmente tanto scarso che Oddio Talmente tanto scarso che Non so se vedete quante farm sto missando Mamma mia ragazzi C'ho il Dark Harvest che è proprio lì Dark Harvest lo vedete Candy? Posso prendermi una stacchetta subito C'hai così in early game? Boom Stacca presa Stacca a rugaz Mamma c'avevo il quarto colpo che volevo Comunque senza Non ho sustain per il mana Per niente Quindi mi sa che mi dovrò prendere Qualcosa Per rimediare Allora lui mi sta massacrando In farm Perché come vedete sto farmando come un animale Come un bisonte Ho l'ultimo colpo Per il cannone Boom Vai Ah l'ho ucciso Adesso credo che morirò Sto ricercando Ma vaffan... Non c'ho il mana Non c'ho il mana Non c'ho il mana Vaffanculo Vabbè però Come avete visto Siamo presi la prima Ma kill Aiuto Sono morto Vaffanculo Brava Yumi Bravissima 23 a 28 farm Non malissimo E ci abbiamo i 1300 gold Per la prima BF E anche un po' di gold Per questa Perfetto Cioè raga È andata È andata la bomba Non ti preoccupare Yumi Allora quindi Lo sto giocando con il Dark Harvest Che è una roba che non Cioè boh Non lo so Forse era meglio Piuttosto che il Dark Harvest L'Electrocut Oppure Un'altra cosa Oppure L'Aile of Blades Non lo so Allora intanto Cerchiamo di prendere il cannone Preso Perfetto Ora cercherò di farmare Piuttosto che Attenzione Carca pittana Ok Ora io voglio pushare la wave Perché odio stare qua Perché è difficilissimo Gestire la telecamera Quindi voglio proprio Pushare la wave Al massimo Se riesco Uno Ok perfetto A me qui va bene A me qui la wave va benissimo Perché Malphite Cioè deve peccare Lucian Non Malphite Non ho preso manco un minion Non ce posso credere Mi sa che Non ce la faccio Ucciderlo Cioè raga Guardate per quanto Sto Bastardo E Yumi Che cazzo fa Non te fa uccidere la luce Non te prego Xins out Mamma mia Ah Da uccidere 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 Grande Ok Te voglio bene Grazie Ora 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 Niente Prendiamo questi E pigliamo Via qui Prendo qui Ecco Allora Questa non è andata molto bene Di giocata Siamo ancora Siamo ancora 44 farm A 42 Io però ho una kill Lui ha due assist Ma io ho una kill Quindi bene E cosa dovevo fare meglio Dovevo kytare un po' Cioè Quando ero qui Io stavo semplicemente Autoattaccando Lucian Ma in realtà Me posso anche spostare E potevo utilizzare La pozione Cosa che non ho fatto Non ho beccato I mini Allora Ok 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 Non so perché Yumi non mi abbia seguito In questo caso potevamo prendere forza Non la kill però potevamo rompere un po' i coglioni A Malphite che non sarebbe stato male Lui Lucian si è posizionato malissimo Talmente male che io pensavo Che ci fosse Malphite in giro E invece no è proprio lui che ha sbagliato alla grande Cerchiamo di Se ci riusciamo a prendere una placca di torre è ottimo Ovviamente non è che devo prendere 7000 danni Per prendere la placca di torre Complimenti Yumi Mamma mia ragazzi ho Malphite che posso prendere la stacca di Dark Harvest Sarebbe la cosa migliore del mondo Grazie Oh mio dio Ho dovuto flashare e utilizzare l'Ial Niente popò di meno che Adesso devo stare assolutamente attento A prescindere dai ping che Che mi Che mi Mi facciano Voler Aiutare Xin Ma non posso perché non c'ho il mana Non c'ho il mana Xin Cosa fai Xinzawa Ok Bravi Bravi Bravissimi tutti 3 E 4 Adesso ci pigliamo un'altra placchetta di torre Utilizziamo questa Dai Placchetta di torre presa Lui c'ha la ulti? Sono morto Sono stupido perché sono morto Ok Mo recollo Ah ma proprio recollo Perché c'ho paura di morire Io mi sto andando a cercare di Aiutare loro ma non ha senso Se recollava come era meglio E 1 E 2 Vai Altro AD Adesso ci dirigiamo Verso la bot lane Stiamo ancora Distruggendo lui Anche se Malfight in realtà Malfight Sta andando a P No non sta andando Si sta andando un po' a P Non proprio a P Si pingano me Ovviamente che avevo recollato Ma mi pingano Perché sono dei froci di merda Noi vado qua Io continuo a farmare raga Non so perché Yumi sia là Ok 2 3 Allora Questo potrebbe essere un po' rischioso Perché Ci potrebbe essere qualcuno qua Sono morto Purtroppo sono morto Perché E invece non sono morto Non solo non sono morto Ma adesso faccio anche il culo in lui Via qua Bastarda Certo che se ci fosse stata Yumi Non avrei dovuto Fa tutto sto pastrocchio Adesso pigliamoci Un'altra bella placchetta De torre Oh Ma tu sei qua ancora Perché Purtroppo Yumi ha preso tutti i colpi di torre E io non sapevo che Yumi prendesse i colpi di torre Quando stava nel Avversario Nel compagno Quindi Questo errore mio Ovviamente Errore mio perché io non sono Un Lui è morto Allora mettiamo una ward qua E andiamo via Assolutamente da qui Ti prego Xin Zhao Non rimanere Perché se no Malphite ti fa il culo E ovviamente è rimasto Io non ho il mana Cioè ma poi non è che dici Non c'ho il mana Nel senso che ce n'ho un po' Ma non basta Non ce l'ho Non posso far manco una spell Quindi Recall Lui E siccome abbiamo il dark harvest Piuttosto che buildare Buildiamo Cioè non voglio buildare attack speed Voglio buildare direttamente Altro Altro danno Ovvero L'essence river E poi Un'altra infinity edge Dopodiché Posso considerare di buildare L'archibuso Ma solo dopodiché Non prima di che Qua che succede Yumi sta intando No non è vero Non è Yumi Non ha fatto niente di male In questo caso Yumi Sto perdendo Tutti I minion del mondo Nel frattempo Triple kill Per Coso Ecco Adesso fra tre ore Forse riesco a pulire Della stab world Ovviamente Sapete che la passiva Di Jin È una delle passive Più tremende Di tutto il game Nel senso che È una palla Allora qua Lui è morto Se Yumi la gioca bene Yumi Vabbè Yumi potrebbe anche Utilizzare la sua Q Secondo me Non sarebbe Una cattiva idea No Che dite voi altri Ok Allora Noi ci allontaniamo Adesso la usa la Q Che non c'è manco un bersaglio E invece ce n'è Porca la Leal Raga Non ho usato Leal Speriamo che lei L'uccida Dai brava Yumi Brava Yumi Più che quello Non poteva fare Ho sbagliato Tantissimo io Che non ho usato Leal Proprio My bad Perché c'avevo Leal Che non ho utilizzato Come un coglione Perché come vi dicevo Io non sono abituato A giocare Questi cosi La DC Che ruolo è la DC E di Kerry Sto andando meglio di lui Però insomma Potevo andare meglio Cioè lì potevo sicuramente Pidiammela kill E Potevo Pidiammela kill Sostanzialmente C'avevo anche la R Potevo fare tante cose Ma Eccari Non ha gancato Bot manco mezza volta Eccari Maratop Ecco perché Non ha gancato Bot Allora Cerchiamo di Cerchiamo di Cerchiamo di uccidere Ecarim volevo dire Ma non ci riusciamo Non è un problema Perché possiamo Prendere tutti questi Minion Praticamente gratis Gli EPS in colpo ragazzi Ma va a cagare C'avevo troppo voglia De prendermi sta kill Troppa voglia Troppa voglia E poca possibilità Bisogna rendersi conto Quando una cosa Può succedere O quando no In questo caso Non poteva succedere Mettiamo un cosetto qua Un fiorellino Mettiamo i fiorellini in giro Perché siamo Il cempe dei fiorellini Questi sanno Questo qui Ma proprio a bomba No Passi Onda via qua I'm going to be so annoyed Due Tre Quattro Ragazzi Io non ho gruppato Una volta Ancora questo game Che dite Possiamo farlo? Ho utilizzato la R Una sola Oddio Uno shutdown This is bad Very very bad Lui è morto Ok Forse dovremmo gruppare Un po' di più Perché mi sembra Che funzioni Preso pure il cannone Ragazzi Che vogliamo Di più della vita Un tucano Gianfranco tucano Allora Prendiamo anche questo Via Poi fanno Due botte alla torre E poi Recall Due Ok Raga Questo siamo Il mio secondo account Quindi siamo in Silver 2 Silver 2 è Credo Il rating Più divertente Credo Oh Oh Torre Siamo presburrati Ragazzi Adesso io direi Che dobbiamo Recollare Oh no Ci abbiamo anche Il doppio buff Ragazzi Io direi Che recolliamo Per il semplice motivo Che sono stupido Sono stupido Sono stupido Come una merda Io lo so Farò Io ho dato pure Due shutdown Gli abbiamo dato A Yasuo Che era il più Fiddato Della loro squadra Sono stato stupido Voi ho detto Che sono stupido No Poi Voi ho detto Che voglio Prendere una Infinity Edge Ma prima Dall'Infinity Edge Visto C'abbiamo 600 gold Che fai Non li spendi Per l'archibucio E spendemoli Per l'archibucio Oh bravissimo Xein Un altro Int Ho intato io Ho intato lui Questo è Intare Se volete una lezione Sull'intare Guardate questo video E intate Insieme a me Questo è il ballo Dell'inting Adesso Cercamo De ammazzare qualcuno Sennò Che stavo a fare Che addicci solo Se non ammazzo la gente Vai Non l'ho beccato Nessuno Che mi aiuta E questo È un problema Nessuno Che mi aiuta E questo È un problema Oh io C'ho la R Ma non mi sento Di utilizzarla Adesso qua Grazie Perfetto È andato Tutto Molto bene Siamo stati Molto bravi Cioè È proprio Perfetto Cioè Non solo io Anzi Io non è che Io che gioco Gym E la parola Perfetto Non sono proprio Due cose Che vanno BOOM Purtroppo C'era il coso Di Yasuo Il Windwall Che praticamente Rende la mia Ulti Completamente Inutile Buona Sapersi Non pensavo Funzionasse Sulla ultimia Ma funziona Sulla ultimia Enhibita Attenzione Ragazzi Yasuo Sta intando No non è vero Lo sta intando Sta facendo cazzate Come me D'altronde Dai che lo uccidiamo Fangull Per poco Per veramente poco Non ci abbiamo più mana Raga Non so che fare Comincia a diventare Pericoloso E rimanere qua Sono morto Sono morto Boom Sono morto Lo sapevo Che ero morto Non ci avevo più mana Dovevo Recollare Non ho recollato Vendiamo questa Prendiamo Questa Perché voglio Una terza Infinity Edge Dark Harvest Facciamo 224 danni fisici In più Non male Non male E ci abbiamo Quanto a D 4,98 Non male Nenco quello Però Insomma Forse sarebbe meglio Qualche altra luna Tipo il piede lesto È la luna perfetta Per lui Quindi Vabbè Ho appena registrato Quel video Di un'ora e mezza Di Come si chiama Di tutti gli oggetti Di League of Legends Quindi sono Completamente Partito di testa Raga È stato uno dei video Più duri da registrare Perché La prima mezz'ora È passata bene La seconda mezz'ora Un po' meno Ma dopo l'ultimo quarto D'ora 20 minuti È stata una roba Terribile Speriamo di vincere Questo game Almeno ci divertiamo Cioè Il mio divertimento È anche Corrisponde anche A una vincita Grazie E comunque Dovevo prendere Le rune Delle rune O del Lifesteal Non ho preso niente E infatti Questo è un po' un errore Ok Ho aiutato Un po' loro Ma Non è bastato Si 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 Facciamoci Il baron Metto un onward qua Metto un onward là E c'è una falbaron Can you wait 20 seconds To finish it No Io voglio finirla Il prima possibile Perché se no Cioè Se no perdiamo Cioè Stanno arrivando Stanno arrivando tutti Attenzione Ok Era un po' difficile Combattere da lì Abbiamo sbagliato A fare il baron E Però Loro Facendo questa cosa Probabilmente I minion Arriveranno qua E cominceranno a fare danni Alle loro torri Oh santo dio Oh santo dio Oddio mio L'ax L'ax Quadro kill Almost Vabbè Non è andata malissimo Perché adesso Guardate qua Adesso non dico Che prendiamo la torre Ma O forse si Dagli 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 Che adesso arrivano Anche quelli No Non ce la facciamo A prendere la torre Vabbè sti cazzi Però è andata male Su Ragazzi Guardate il mio score Io voglio morire Con questo score 666 Voglio che il game Finisca così Guardate 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 Dove sono 666 E più red buff Mi prendo Questo red buff Che ci fa Tanto ridere Grazie Una volta Una volta preso il red buff Non possiamo fare altro Che pushare la wave Aspettando che i nostri compagni Ressuscitino O Ressuscitino O Ressuscitino Yasuo Yasuo è un problema E Non so perché Sogono così Grid Ok Yasuo non è qua Pensavo fosse lì Ma non era lì Inhibitor No 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 Tu non hai capito il cazzo Oh L'ho preso Però non so se è sufficiente Non so se è una buona idea Perché loro sono quasi tutti alive Ah ok Lo stiamo distruggendo Sto Baron Era una buona idea All mid End No A questo punto E ovviamente Xena ha regolato Lei si è bloccata qua Davanti al Baron Lax Hai fatto una quadra Su Si felice Almost Adesso appena arrivo Non posso utilizzare la ulti Però devo aspettare adesso Non posso farlo ora Posso Fare danni Cercare di immobilizzare No non ci arrivavo Mi prendesse un colpo Allora Trinda Ops Attenzione che Quello c'è ulta Quello è mal fight Voi ho detto che c'è ulta Che vo' Dica fa Davo Via 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 Quasi Quasi Ok Che level game Si è finito raga Allora Fatemi sapere Vi siete divertiti Guardando questo game Vi è piaciuta questa Gameplay Di Jean Vi piace che io porti Addirittura I needy carry Fatemi sapere Nei commenti Iscrivetevi tantissimo Al canale E mettete tanti Mi piace Like E commentate A bestia E ci vediamo Al prossimo video Che sarà un video Ancora più bello Ancora più entusiasmante Ancora più entusiasmante Ancora più Ho detto due volte entusiasmante Che stavo aspettando che finisse Esatto Vittoria E quindi Andrà Che stavo Ma 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 Ma